Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi non faccio tanto di intro, non faccio neanche la intro solita eh Vi dico solo che adesso ci sarà un remix di tutto quello che è successo in questo strepitoso, magnifico Sento anche le vado, senza disegna parte, non ho paura, non lo so, sono un reso, non ho paura, non ho paura, ma ho paura... ...e si, si, si... ...e si... è buono! è buono! è buono! è buono! Vittoria! è tutto buono! madonnina! non posso più a urlare! dai! dai! ti capi! ma non ce la posso più manco a parlare! ne ho più a parlare! è buono! è buono! è buono! è buono! ti do, chi no! Ti do! si! andò la mia immagina! ti do! la mia immagina! la mia immagina si! Eduardo! Antonio, si! no! dunque adesso qui si! ma cosa ha fatto? Che cacchio cazzo? Che cacchio cazzo? Che cacchio cazzo? Anche senza fare il giro? Ecco, dentro lì! Lo sbagliato l'ho subito! No! Che cazzo non è il giro? Non mi è parola! Che cazzo non è il giro? Che cazzo non è il giro? La scuola... Un abbraccio... Non è il giro del pieno... un bagnole... un controllo da me... Oh! Che cacchio! Che cacchio! Che cacchio! Che cacchio! Che cacchio! Che cacchio! Cacchio! Calma! Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, è un po' di stagione. NON VAGÀE never hat vardı. NON VAGÀE NO HA. Non commetabbim Milano che è niente! no 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 a sinistra guarda, a sinistra, esatto, a sinistra, si vede già fatto a sinistra A sinistra! la sbaglia la sbaglia la sbaglia GOLO No! campioni di Europa su queste immagini vorrei ancora dire grazie grazie di tutto grazie ragazzi grazie ancora l'italia a una settimana a to quattro giorni cinque non solo quando vedete questo video ma insomma quando l'ho editato l'ho messo sul canale sono cinque giorni appunto quattro che l'italia ha finito questo europeo l'ha finita in bellezza vincendo niente questo sarà il video più importante dell'europeo cioè di tutto il canale scusate ancora europeo il canale sarà messo ovviamente in primo piano eccetera eccetera e niente ancora e non smetterò mai di dirlo l'italia si è testa e nel municipio si è città la testa non è la vittoria che vulga la chioma che si ama a di domani in Dio la creò il tuo scopo del fegno in Italia Italia sedesta dell'Eno di Cisio si zitta alla festa come l'artore come la chiama che si vada a Dio ma in Dio la creò Grazie a tutti.